Grazie per la visione! Il risultato è pieno della scelta. Isaksson è giocato e il giro. Il giro è gioco. Intrò che non spiego ancora. Il giro del gol per la Argentina. Isaksson è giocato per la scelta. Il giro è gioco. La scelta è gioco il giro al giro. È stato gioco. Grazie. Grazie a tutti. Il fa' il spectacle Jérémy Jeannot. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.